Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TV Siti. In apertura la violenza ai danni di una ragazza diciottenne di Torre del Greco da parte di un 24enne conosciuto. In chat non sono mancati i messaggi del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e della consigliera comunale con delega alle pari opportunità Yolanda Mennella. Poi il Covid, vaccinazioni che procedono spedite verso l'immunità di Grege, preoccupa però la variante Delta. Poi spazio alla cronaca, a Napoli un parcheggio selvaggio finisce in rissa, tre le persone ferite. E poi in conclusione il 247esimo anniversario della Guardia di Finanza con la cerimonia e il bilancio delle operazioni concluse nel 2020. Guardiamo i servizi. Non si placano le polemiche a seguito del caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza diciottenne di Torre del Greco. La giovane aveva denunciato e raccontato la sua vicenda negli scorsi giorni, di quell'incontro voluto che poi si è tramutato in un incubo vero e proprio. A quanto si apprende dal racconto contenuto nella denuncia presentata alle forze di polizia, i due si sarebbero conosciuti sui social per poi accordare un appuntamento. Inizialmente dovevano recarsi con la vettura del 24enne presso via Litorania, ma poi l'uomo avrebbe improvvisamente virato verso il parcheggio pubblico della Santissima Trinità in via Circunvallazione. Una volta nell'area di sosta, la diciottenne è stata privata del cellulare e costretta a sobbire abusi dall'uomo. La ragazza avrebbe poi successivamente iniziato a piangere, convincendo il ragazzo a fermarsi e a riprendere il cammino in auto fino alla rotonda del casello autostradale di Torre del Greco, dove la diciottenne è stata fatta scendere dalla vettura. La vittima, nei giorni seguenti, aveva trovato il coraggio di parlarne con una cugina, che aveva notato i segni e le ferite sul suo corpo. Da lì, il coraggio di parlarne ai genitori, di denunciare. Grandissima vicinanza di tutto il popolo torrese alla giovane, non sono mancati i messaggi del primo cittadino, Giovanni Palomba. È inaccettabile un episodio dalla violenza inaudita, perpetrato ai danni di una giovanissima donna della nostra città, alla quale rivolgo la piena solidarietà, la mia personale vicinanza. Sono ancora più determinato e convinto, alla luce di quanto accaduto, che tali aree libero debbano essere monitorate, regolarmente e sorvegliate. Vicinanza alla vittima anche della consigliera comunale, con delega alle pari opportunità, Yolanda Mennella. Occorre reagire. Noi continueremo a lavorare sul piano culturale contro la violenza sulle donne, nelle scuole e con i ragazzi, così come abbiamo fatto finora. Perché ciò che è accaduto a questa ragazza conferma che bisogna smontare gli stereotipi, capovolgere le relazioni tra uomini e donne e scrivere una nuova grammatica dei sentimenti, in grado di comprendere cosa significa volersi bene, costruire relazioni nuove tra donne e uomini, incentrate innanzitutto sul rispetto dell'altro. L'estate 2021 è ormai alle porte, con la pandemia da Covid-19 che, come lo scorso anno, sembrerebbe aver abbassato la guardia. I dati sono incoraggianti in tutta la penisola, con il tasso di positività al picco registrato pari allo 0,5%. Una situazione di grande miglioramento stando al periodo invernale, dove l'Italia ha visto arrivare i suoi numeri oltre il 20% di tamponi positivi. I nuovi positivi giornalieri riescono a non superare quota mille per la quarta giornata di fila, chiudendo a 951 nuovi contagi. Calano anche i decessi odierni, nella giornata di ieri, 30 alle persone decedute. In contrapposizione i pazienti guariti da Covid-19, che viaggiano sulle circa 4.000 guarigioni giornaliere. Una curva epidemiologica che si appiattisce e lascia ben sperare in vista della stagione estiva. Migliora anche la situazione del sistema sanitario. Calano le ospedalizzazioni con un dato complessivo di recovery pari a 2.140, circa 150 pazienti in meno al giorno precedente. Le terapie intensive contano invece 344 pazienti. Continua anche la campagna vaccinale. Dopo i dubbi e gli stop che hanno fatto la protagonista, con la primavera si è avuto il vero e proprio sprint che ha visto i numeri di dosi giornali inoculate sempre maggiori. L'immunità di Greggia appare ben lontana, ma la soglia del 50% della popolazione con prima dose è stata da tempo superata, lasciando ben sperare. Circa 14 milioni di italiani immunizzati che hanno ricevuto la seconda dose, per un totale complessivo di oltre 43 milioni di dosi inoculate. Le regioni in testa alla classifica per numero di somministrazioni sono ad oggi Emilia-Romagna, Abruzzo e Lombardia. Sulla base dei dati Istat è possibile rilevare che la percentuale di over 90 vaccinati è ormai pari al 95%, over 80 di poco sotto al 92%, over 70 all'85%, fascia 60-69 a 75%, over 50 64,7%, mentre tutti coloro dei 50 in giù non aggiungono ancora quota 50%. Se si continuerà su questa scia, entro il 18 settembre circa l'80% degli italiani avrà ricevuto a meno una dose, rendendo in quel momento la prospettiva immunità di Greggia decisamente più concreta. In campagna nella giornata di ieri sono stati 110 nuovi casi da Covid-19, a fronte di 8.386 tamponi effettuati. Dei nuovi casi, 70 sono asintomatici, mentre 40 hanno invece mostrato sintomi. Stando al rapporto tra tamponi e risultati positivi su quelli analizzati, oggi il tasso di incidenza si attesta all'1,31%. In campagna nelle ultime 24 ore si sono registrati purtroppo anche due nuovi decessi. Nessuno di loro si riferisce però alle ultime 48 ore, ma si è verificato in precedenza ed è stato registrato soltanto ieri. A preoccupare però la variante indiana, anche denominata Delta, il nuovo ceppo ha preso piede nelle ultime settimane con la campagna che ufficializza 82 pazienti con variante Delta, 44 dei quali attore del Greco. Una situazione che deve essere però controllata e gestita con responsabilità. Anche il presidente De Luca torna a parlare della situazione Covid-19 nella sua regione, proprio a pochi giorni dall'abolizione della mascherina. Non è l'abbandono della mascherina a segnare la riapertura. Toglierla non è conquistare lo sbarco in Normandia o firmare la Costituzione Democratica. I turisti arrivano quando percepiscono una società responsabile e non perduta nella Movida, senza regole che ci porterà un nuovo calvario a ottobre. Questo quanto dichiarato da Vincenzo De Luca. Lite per un parcheggio a Napoli. È successo in via Consalvo dove un architetto di Bacoli, una donna incensurata di 62 anni, ha parcheggiato la sua auto proprio all'esterno dell'abitazione nella quale stava eseguendo i lavori di ristrutturazione. Lasciando l'auto, non ha però notato che il suo veicolo struiva il passaggio ad un'altra residente. Quest'ultima, infastidita, ha dato vita ad una lite, durante la quale anche i proprietari dell'appartamento di ristrutturazione sono intervenuti. Ed è così che un settantenne insieme al figlio cinquantenne, già noto alle forze dell'ordine, per difendere il proprio architetto hanno aggredito l'altra donna. La zuffa si è ulteriormente allargata quando il figlio ventenne della donna, aggredita, si è lanciato nella mischia per difendere la madre e ha colpito i due uomini a pugni. Ha poi recuperato un paletto di ferro e ha completamente sfasciato l'utilitaria che era all'origine del contendere. Padre e figlio sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e sono poi stati dimessi, con una prognosi di 10 e 30 giorni. In ospedale, anche la donna che aveva dato via alla discussione, al Cittiole hanno prescritto 10 giorni di riposo per una contusione alla testa e ferite, lacero contuse alla nuca. Il ventenne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Forigrotta e dal nucleo operativo di Bagnoli e dovrà rispondere di lesioni aggravate. Celebrazione in occasione del 247esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza nella piazza d'armi della caserma Zanzur, sede storica, delle Fiamme Gialle Partenopee, preseduta dal Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale, Generale di Corpo d'Armata, Ignazio Gibilaro. In ragione delle misure di contenimento emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la cerimonia si è svolta senza reparti in armi e con la partecipazione delle massime autorità locali, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid, assicurando il mantenimento del prescritto distanziamento sociale. Dopo aver deposto una corona dall'oro alla lapide in memoria del sacrificio dei finanzieri Ludovico Papini e Salvatore Spiri di Giozzi, barbaramente trucidati a Napoli dai nazi fascisti nel corso del secondo conflitto mondiale, è stata data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Regionale della Guardia di Finanza. A seguire, il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale ha pronunciato la sua allocuzione e in conclusione il terzo cappellano militare capo, Monsignor Gerardo San Giovanni, ha recitato la preghiera del finanziere. La ricorrenza ha ricostruito comunque l'occasione per un bilancio delle attività condotte nell'anno 2020 nei settori costituenti la missione istituzionale del corpo, quali la lotta all'illusione, all'evasione fiscale, la repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, la tutela del mercato dei beni e dei servizi, di quello dei capitali ed il contrasto alla criminalità organizzata, in particolare sotto il profilo patrimoniale. Il periodo di emergenza sanitaria ha inoltre impegnato i reparti del corpo nel controllo del rispetto delle norme emanate dalle autorità governative per il contenimento e la diffusione del coronavirus e di ogni forma di insidioso e di illecito commercio, con fini speculativi dei presidi medici non conformi alle normative vigenti. Questi i principali dati relativi all'attività di servizio svolte dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli, diretto dal generale di brigata Gabriele Failla. Nel corso del 2020 il Comando Provinciale di Napoli ha eseguito 106.378 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento, nonché 18.309 interventi ispettivi e 1.762 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale, un impegno a tutto campo, a tutela di famiglie, imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese. Interventi mirati e selettivi fondati sull'incrocio delle banche dati fiscali di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria. Nel 2020 sono stati scoperti 66 vassori totali e 559 lavoratori in nero o irregolari. Sono state eseguite inoltre 224 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 276 soggetti di cui tre arrestati. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di 22 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro, tuttora al baglio delle autorità giudiziarie, ammontano a 55 milioni di euro. Nel contrasto agli illeciti doganali, sono stati eseguiti 977 interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio. Nel settore al contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ci sono state sequestrate 31,6 tonnellate di sigarette illegali, 690 soggetti denunciati e 84 arrestati. I controlli e le indagini contro il gioco illegale ed irregolare hanno permesso di irrogare sanzioni per 65 mila euro, di denunciare 46 soggetti e scoprire un'agenzia clandestina. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, il corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprezzione del reddito di cittadinanza. Gli interventi svolti in quest'ultimo ambito, anche con il contributo dell'Inps, sono stati indirizzati in maniera puntuale e selettiva nei confronti delle posizioni connotate dei concreti elementi di rischio e hanno permesso di intercettare, in ambito provinciale, oltre 4,1 milioni di euro indebitamente percepiti e oltre un milione di euro di contributi richiesti e non ancora discossi. Oltre un milione di euro ammontano invece i sequestri operati nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del reato di usura. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 480 soggetti, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca hanno raggiunto complessivamente la quota di 90 milioni di euro. L'attività a tutela del mercato dei beni e dei servizi è stata volta a contrastare la contraffazione di marchi registrati, l'usurpazione di indicazioni di origine e qualità delle merci. In tali ambiti, i reparti operativi provinciali hanno effettuato 368 interventi e dato esecuzione a 50 deleghe delle autorità giudiziarie, sottoponendo a sequestro oltre 5,3 milioni di prodotti industriali contraffatti con falsa identificazione del Made in Italy e non sicuri nonché ingenti quantitativi di prodotti alimentari, recantimarchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. Sono stati segnalati alle procure della Repubblica 256 soggetti, 57 soggetti segnalati ai fini amministrativi. A seguito dell'emergenza epidemiologica, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, unitamente alle altre forze di polizia, hanno assicurato l'attuazione delle misure di contenimento della pandemia eseguendo 85.840 controlli, nei confronti di persone fisiche e 20.312 esercizi commerciali che hanno consentito di sanzionare 2.509 soggetti e di denunciare alle autorità giudiziarie a vario titolo 564 responsabili. Con questo è veramente tutto, io vi ricordo i nostri contatti, la mail redazionechiocciolatvcity.it oppure al numero di telefono 340-6561-484. Con questo è veramente tutto, io vi auguro buon proseguimento. Grazie a tutti i nostri contatti,